autogrill analisi mensile febbraio 2021 allora buongiorno a tutti aggiornamento di questo titolo siamo sempre in italia continuiamo con l'aggiornamento dei titoli principali interessantissimo quello che vi voglio far notare stamattina analisi scorsa anche di questo titolo avevamo fatto l'analisi annuale intorno al 20 dicembre circa e quindi vi voglio far vedere stamattina vi voglio far notare come i livelli che segniamo vengano sentiti dal prezzo come i livelli che segniamo segniamo abbiano un'effettiva importanza in termini pratici e come spessissimo vengano rispettati con una percentuale di probabilità altissima prima di iniziare mettete mi piace al video il canale sta crescendo sta andando avanti anche se molto lentamente allora vediamo subito che cosa vi voglio far notare guardate avevamo praticamente fatto l'aggiornamento a dicembre questa era la candela di dicembre avevamo segnato questo massimo venduto quindi giugno su maggio giugno che vende maggio ok vedete ed era diventato un target per il mese di dicembre che quotava qua sotto circa o oppure sopra ma doveva ancora comunque chiudere la candela e avevamo segnato sull'area comprata di novembre su ottobre quest'area diciamo di ingresso potenziale long guardate la candela di dicembre va a chiudere poco sotto o in corrispondenza di questo livello e guardate a gennaio cosa succede a gennaio proprio da questo livello il prezzo viene ve lo ingrandisco un po il prezzo viene respinto verso il basso arriva fino a 4.03 ma guardate fino a che area riassorbe chi è rientrato long qui in breakout o anche qui riprende cioè rientra a mercato trova utile questo livello per rientrare e da qui area proprio segnata di long il prezzo riparte verso l'alto ora siamo a febbraio la candela del mese di febbraio si sta sviluppando all'interno del range di quella di gennaio e tra questi due livelli che fanno da entry e da target quindi vedete con quanta incredibile probabilità dalla nostra parte funzionino questi livelli chiaro ogni tanto bisogna avere il timing giusto si può anche ottimizzare ancora di più l'entrata perché una persona potrebbe dirmi eh sì ma io entro a 4.24 questo arriva fino a 4.03 certo ricordiamoci che siamo su un livello mensile siamo su livelli mensili non si può avere la precisione al tic anche se anche se una volta identificato il prezzo su un'area su un'area anzi in questo caso su un livello bisogna scalare di time frame sapendolo fare andando a cercare un entry con uno stop eventualmente più sostenibile ancora e andare a vedere prima di entrare secchi su quel livello che cosa sta facendo il prezzo su time frame più bassi perché il giornaliero ci può andare a dire ci può andare a dire che cosa sta succedendo proviamo un attimino a vedere sul giornaliero allora questo è febbraio questo è genna ecco qua guardate qui la situazione guardate qua la situazione la candela di gennaio chiude sotto questo livello ok la candela di febbraio no questo ancora 25 26 28 siamo ancora a gennaio qui guardate questa questa candela del 25 ci dice come allora già si poteva entrare addirittura in riassorbimento di questo livello si poteva tentare si aveva uno stop da 4.09 a 4.05 niente ok non avremo probabilmente più rivisto lo stop e il prezzo sarebbe adesso oggi a 5.05 anzi mettiamo come target giornaliero 4.92 avremo fatto da 4.23 a 4.92 minimo minimo venduto del 21 sul 20 stesso ragionamento del mensile sul giornaliero ma nel caso in cui avessimo voluto aspettare quest'area di 4.24 la candela del 26 ci dava conferma con la chiusura sopra e noi avremmo potuto entrare avremmo visto una piccolo un piccolo loss di nuovo fino a 4.18 4.19 lo stop sarebbe stato qui sicuramente più ampio in quel caso possiamo anche decidere di tarare le sites sulla base di e a quel punto il prezzo andava via vedete come il giornaliero ci dà una mano in prossimità del livello ok il time frame più basso diventa una lente di ingrandimento sul time frame più alto mi pare di capire che sia logico quindi sapere cosa fare avere una strategia prima prima di fare un'operazione come del resto facciamo sempre nella vita è come se noi uscissimo di casa e quando siamo fuori casa ci domandiamo ma dove sto andando non lo facciamo non è quello spessissimo le persone entrano in posizione e poi si domandano ma dove mi stoppo se mi va contro oppure dov'è che mi metto il target dov'è che chiudo l'operazione quando è che devo chiudere quindi ma è assurdo farsi questa domanda dopo perché ripeto facendo l'esempio di nella vita di tutti i giorni io non è che esco di casa e poi mi domando dove vado io sono a casa mi domando se devo fare qualcosa devo andare a esco e so dove devo andare probabilmente so anche quanto ci impiegherò quando tornerò a casa quando tornerò a casa cosa farò invece no in borsa noi entriamo in posizione e poi ci domandiamo e adesso dove la chiudo la posizione sia che ti vada contro sia che ti vada a favore invece avere un'idea chiara prima quindi una strategia io entro lì mi stoppo lì e il mio target è lì con un orizzonte temporale chiaro sapendo su che time frame si sta tradando su che time frame si sta entrando e sapendo e sapendo esattamente che tipo di approccio all'operazione voglio avere due giorni tre giorni un mese venti giorni un anno due anni conoscendo il titolo avendo fatto un'analisi fondamentale nell'eventualità in cui io me lo voglia tenere per tanto tempo quindi assolutamente assolutamente questo è il modo di operare tra l'altro guardate assolutamente che cosa sta succedendo adesso di nuovo per farvi vedere l'incredibilità di queste aree dovremmo aggiungere un'area potremmo anche spostare questa qui perché qui perché qui perché è il minimo venduto del mese di dicembre a gennaio questa diventa un'area in cui gli short sono entrati in maniera importante guardate febbraio cosa sta riassorbendo ora vedremo se febbraio chiuderà sembra che si sia proprio fermato lì cioè è arrivato un po più alto ma sta riassorbendo perché chi era long da qua sotto ha determinato questo livello come un target e di conseguenza ecco che il prezzo arretra il prezzo torna indietro ok vedremo adesso se quest'area verrà violata quindi se questo livello verrà cancellato questa resistenza il prezzo che dovrà chiudere necessariamente sopra andando a testare o quest'area o addirittura ancora sopra questa oppure il prezzo tornerà di nuovo verso 4 24 mi sembra di aver detto tutto mi sembra che sia stata un'analisi interessante almeno per me è stata interessante perché mi ha dato degli spunti per per darvi dei suggerimenti didattici per darvi del insomma dei suggerimenti delle per condividere delle idee e un approccio che da anni verifico quanto possa funzionare fate le vostre considerazioni e nel caso in cui vi serva riguardate il video e riguardate tutte le osservazioni fatte